Dottor Barini, come vede lo sviluppo del crowdfunding in Italia nei prossimi anni? In maniera assolutamente positiva e in grande crescita. I dati più recenti ci dicono che i tassi sono la doppia cifra. Siamo naturalmente ancora distanti dai numeri dell'Inghilterra, per esempio, dei nostri principali partner europei, ma siamo senz'altro in Europa il paese che sta crescendo di più. In pochi mesi sono stati canalizzati oltre 10 milioni di euro, più del doppio dell'anno precedente. Sono oltre 100 le start-up che hanno avuto accesso a questo mercato e in quasi il 70% dei casi sono riusciti a finanziarsi. Quindi direi una valida alternativa per le piccole e medie imprese italiane rispetto al canale bancario per trovare capitali per la crescita. Molte grazie. 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 Grazie.